Questa sera avrò l'orario di tirare un premio al nuoro all'auditore Uniliu per una poesia in italiano, una mia poesia, dal titolo Rana Ossidiana, che però parla di Sardegna, è un premio del Te Natura Sala. Sono molto felice di questa cosa, è una poesia molto importante in questo periodo della mia vita. Il 23 dicembre ci sarà al Teatro Cirico di Alghero un altro appuntamento con il previario per tutti i campesti, questo concerto poetico alla quattordicesima replica. Oltre alla mia presenza ci sarà come sempre Piri Cosolina, Sala Voce e la Chitarra, Morale Costantino alla Tromba e Paolo Zudda, Sare Percussioni. Questa volta abbiamo anche degli ospiti, che saranno Vittoria Mura a L'Ovoe, L'Ena Barca e la Chitarra Classica, Maria Mordini del Violino e, capito il caso, Voce Citarra. Quindi vi aspettiamo come di 23 dicembre alle 20.30 a Teatro Cirico.